Ben ritrovati ai conti in tasca, bentornati alla nostra rubrica dedicata ai temi dell'economia. Oggi nella nostra puntata ci occuperemo di tutti gli aspetti più importanti nella vita di un'impresa, di imprese nuove o imprese esistenti, dal reperimento delle risorse finanziarie allo sviluppo di nuovi business e anche al superamento dei momenti di difficoltà che possono verificarsi e che possono essere incontrati durante appunto la vita di un'azienda. Lo facciamo con l'ospite che è venuto a trovarci in studio e che presento subito, Paolo Di Antonio che è il CEO di Criwell. Criwell, benvenuto e grazie per essere con noi. Criwell è una società di consulenza che affianca le imprese, le aziende nel loro percorso verso il raggiungimento degli obiettivi. Ha una sede a Teramo, una società che è anche composta da varie professionalità al suo interno, in particolare di cosa vi occupate? E poi le chiedo subito quanto è importante per un'azienda farsi accompagnare in un certo senso verso il raggiungimento dei propri obiettivi? Esatto. Criwell nasce nel 2019 anche se l'esperienza di tutti i collaboratori che a varie titoli intervengono è un'esperienza che muove i primi passi da anni addietro. Ci occupiamo di affiancare sia le imprese già costituite che le imprese che invece vogliono avviare una nuova iniziativa, fornendo tutti gli strumenti e un supporto necessario per evitare che si possa poi trovare lungo l'arco della vita, dello sviluppo dell'azienda in situazioni di difficoltà. Lo facciamo con collaboratori che a vario titolo intervengono nelle varie aree e che hanno accumulato un'esperienza dedicata. Perché fare imprese non è una passeggiata, no? No, non è una passeggiata. Ci sono tanti aspetti di cui tener conto, i più complicati, i più difficili per chi magari ha un'idea imprenditoriale e vuole trasformarla in un'impresa vera e propria. Quali sono le difficoltà principali? La difficoltà è cercare di razionalizzare e in qualche modo schematizzare l'idea di business che c'è per far sì che innanzitutto possa aumentare la probabilità di reggere e tenere sul mercato. Oggi è particolarmente complesso navigare in un mare dove lo vediamo anche nei contesti attuali. Tante onde, tanti cavalloni, no? Perché chiaramente la competizione non è più solo locale, chiaramente dipende dal business, però è una competizione che si muove su scala nazionale. E poi individuare il supporto finanziario per fare in modo che questa iniziativa, se una start-up, possa decollare oppure se un'azienda che ha bisogno di un supporto per la crescita, che possa avere le risorse necessarie per affronteggiare tutti gli investimenti o le esigenze che nascono durante la vita appunto di un'azienda, di un'attività. Abbiamo accennato al tema delle start-up, oggi ne parlavamo, forse è un periodo storico un po' turbolento, però ci sono condizioni comunque favorevoli tuttora per poter mettere su un'attività nuova? Noi assistiamo ad una crescente richiesta di informazioni che provengono sia da un target di clientela giovane, ma anche, specialmente nell'ultimo biennio, da ex imprenditori, o comunque persone che hanno magari coltivato negli anni un'idea e che adesso anche un po' complice un'offerta comunque abbastanza nutrita di strumenti finanziari, magari vogliono verificare che ci siano le condizioni per poter avviare qualcosa di interessante che avevano lasciato magari nel cassetto e che ritengono possa avere tutte le credenziali per poter in qualche modo trasformarsi in un'iniziativa valida. Scoprire se è il momento buono per renderla, trasformare l'idea in azienda, che poi anche gli imprenditori, che per loro come direi natura, sono persone molto dinamiche, anche molto portate al cambiamento, magari appunto diversificano anche noi, i propri campi d'azione, e quindi magari possono avere interesse proprio a far partire un nuovo business in un determinato momento storico. Sì, sì, cioè chi già è imprenditore e magari complice un'intuizione o un'opportunità che viene a crearsi sul mercato decide di avviare una nuova iniziativa e quindi in quel caso, come dicevi, è finalizzata a diversificare su più fronti. Oppure ecco ci sono dipendenti che magari o costretti oppure per scelta hanno deciso di abbandonare la struttura presso la quale lavoravano e magari trasformare in attività quella che inizialmente era una passione, mettendosi assieme e occupandosi ciascuno di un ambito specifico. Siccome questa è una trasmissione che cerca anche di dare informazioni utili, dirette ai nostri telespettatori, un consiglio se lo senti di dare magari a chi oggi vuole tentare un'attività imprenditoriale nuova, magari che ne so, dare, identificare un settore magari che può essere più appetibile nella situazione attuale o qualche altro tipo di consiglio? Ma allora, cioè, sul settore è complicato perché effettivamente le idee di business possono essere variegate. Noi assistiamo nel nostro piccolo, ma anche chi svolge un'attività simile alla nostra, non potrà fare altro che confermare, provengono idee veramente molte volte, diciamo... Anche le più fantasioze, c'è la sentita, ma... Sì, è difficile trovare, come dire, la strada giusta. Sì, perché poi chi la propone si è innamorato della propria idea. Certo, magari parte da una passione, un sogno e quindi... Non è facile molte volte far scendere sulla terra magari il soggetto che si è talmente invaguito della propria idea di business che puoi costringerlo a imbrigliarlo fra le mura numeriche, poi non è facile, no? No, non è facile. E forse è l'aspetto più difficile per chi sogna di diventare imprenditore, perché idee belle o appassionanti possiamo averle tutte, poi i numeri, le considerazioni giuste, magari non tutti siano portati a farle. A farle, sì. Quindi è che un soggetto esterno magari può dare questo contributo, cioè un contributo di, tra virgolette, oggettività... Cioè di valutazione, in un certo senso che sia... Qua sia settico, no? Esatto, anche poi di concretizzazione pratica. Per oggi quelli possono essere, come dire, ecco, non da un settore, ma delle aree, dei comparti in cui ci si può muovere più agevolmente, anche sulla base magari delle opportunità che esistono in questo momento. Certamente, tutto il mondo del digitale, tutto il mondo legato alle nuove tecnologie e agli impieghi che queste tecnologie possono, in qualche modo, apportare nei vari contesti un po' più tradizionali, sono ambiti molto battuti, specialmente da, tra virgolette, da un segmento giovane, no? Sì. Che quindi fa del percorso di studi o dell'attitudine verso questa nuova ondata di possibili strumenti, magari, ecco, lo trasforma in un business a favore di aziende più strutturate che in effetti vanno alla ricerca di profili o da inserire oppure da società molto verticalizzate, specializzate che possono dare quel supporto, no? E quindi ci sta che in questo ambito possano nascere... Delle interessanti opportunità. Sì, che magari non richiedono un grande fabbisogno di capitale per partire. Più le competenze. E richiede più, ecco, una competenza, magari anche multidisciplinare, per cui si possono mettere insieme ragazzi o anche ragazze e quindi poi collezionare un'offerta che sicuramente ha un riscontro positivo. Certo. Ragazze, ho usato il termine femminile che mi ha colpito perché volevo arrivarci un po' a parlare anche dell'imprenditoria femminile, no? Che è anche un obiettivo, anche delle politiche pubbliche, no? Quello di incrementare il numero di donne che, diciamo, comandino delle aziende, siano i vertici di aziende oggi. È una strada, è un settore che attualmente quanto è sviluppato e quali sono invece, anche in questo caso, le opportunità esistenti per poter implementare il numero di imprese rosa, definiamole così? Allora, diciamo, da poco tempo si è chiusa una delle tante finestre che si sono aperte e che continueranno ad aprirsi, dedicate all'imprenditoria femminile con delle agevolazioni sia per le start-up sia per le imprese già avviate che dovevano possedere dei requisiti numerici, ma anche di presenza poi pratica e di capacità di conduzione, proprio dedicate al mondo dell'imprenditoria femminile che noi vediamo è un mondo contraddistinto da una buona vivacità. Dinamismo. Sì, sicuramente, adesso non voglio scendere nelle riflessioni un po' magari già battute, però in realtà a parità di certe condizioni molte volte la donna che vuole avviare una propria attività ha uno spirito di concretezza e di praticità che in alcuni casi può essere veramente utile. Sono caratteristiche giuste, insomma, per gestire un'azienda, un'attività. Sì, forse magari si lancia un po' meno, no? Quindi quest'attitudine, chiaramente ecco, non voglio essere troppo... Generalizzare, no? Certo, ci sono casi e casi, non male. Però in un contesto dove molte volte c'è bisogno un po' di razionalizzare, un po' di fare il passo misurato, ecco, in quel caso, in generale, il pubblico femminile, da un punto di vista imprenditoriale, presenta delle caratteristiche, ecco, più idonee, no? E quindi ci sono comunque frequentemente delle opportunità, delle finestre anche di finanziamento, bandi per... Noi abbiamo un'unità apposta dedicata al supporto di strumenti, cosiddetti di finanza agevolata, perché sono strumenti che cercano in maniera agevolata, come dice il termine, di offrire delle leve che possano andare incontro alle necessità. Oggi ci sono una pletora di misure nazionali che non specificamente sono dedicate al settore femminile, ma che magari all'interno hanno delle misure premiali, cioè nel momento in cui ci fosse una componente femminile, e in una graduatoria del punteggio questa componente poi comporta un incremento di me. Certo, assolutamente. Parliamo un po', entriamo un po' più nello specifico, proprio nel mondo, insomma, della finanza e delle possibilità, quindi, di finanziamento per le imprese, perché è un mondo molto, molto vasto, variegato, con tante opportunità. E spesso gli stessi imprenditori, le stesse aziende, magari fanno fatica anche un po' ad orientarsi, no? Per cercare di incanare la scelta sul binario giusto. Anche in questo caso società di consulenza come la vostra danno una grossa mano, no? Per aiutare a destreggiarsi. Noi, diciamo, quello che consigliamo, oggi naturalmente il tutto è fortemente facilitato, perché gli strumenti di cui disponiamo, molti sono anche gratuiti, comunque consentono di avere una prima informazione anche in maniera autonoma. Dov'è che noi, o le società tipo la nostra, noi cerchiamo di intervenire? Nel supportare l'azienda nella definizione del modello di business, cioè nella strategia e nella identificazione delle caratteristiche che l'iniziativa deve avere perché possa ottenere con una maggiore probabilità una garanzia di successo. Questa, secondo noi, rappresenta la prima fase. Cioè prima l'azienda deve in qualche modo, o l'azienda o l'iniziativa, deve disegnare il proprio modello, come intende competere sul mercato, quali sono appunto i segmenti di clientela verso i quali rivolge la propria offerta, come intende proporla, no? Quindi mettendo in campo tutta una serie di azioni. Dopo individua quali possono essere gli strumenti più adatti per far sì che l'iniziativa possa chiaramente avviarsi o consolidarsi. Il meccanismo inverso è un meccanismo che presenta tutta una serie di difficoltà. Noi non corriamo dietro alla misura. Ecco, questo è quello che mi sento di suggerire. Non perché, insomma, esca fuori un bando orientato ad un settore specifico, allora bisogna per forza buttarsi su quel settore, sperare di intercettare le risorse di quel bando. Sì, sì, questo è purtroppo un vizio di chi opera in questo mercato e correre dietro alla caratteristica che fa sì che io possa avere maggiori probabilità e quindi magari trovo un socio da inserire perché se lo inserisco a quel punto posso accedere a quella misura oppure faccio un investimento in quell'ambito che io non mi sarei mai sognato di mettere sul tavolo Esatto, però solo perché ci sono delle opportunità, delle risorse a disposizione allora uno ci prova in un certo senso. Però questo mi fa pensare dunque che tenendo, come dire, la barra dritta verso il proprio obiettivo, il proprio scopo, siano necessarie, come dire, più opportunità, più fonti, come dire, di finanziamento, per la propria azienda, la propria attività e dunque il panorama ovviamente è molto ampio, c'è anche la finanza tradizionale, insomma, anche il rivolgersi ad un istituto di credito, una banca, anche se credo che siano sempre più di meno le opportunità da quel punto di vista, almeno per quello che si sente anche da parte di, come dire, delle aziende stesse o delle associazioni di categoria che spesso lamentano un po' una stretta nel credito per le aziende. No, più che stretta nel credito in realtà è il modo di fare credito che è cambiato. Il problema è che bisogna sapersi rapportare con un mondo che ha torto a ragione comunque esso stesso ha subito delle modifiche e quindi la modalità di interlocuzione è cambiata. Non è più sufficiente produrre delle informazioni magari scarne e che sono datate. Gli istituti di credito, da quello più strutturato, magari a quello che ha più una visione locale, comunque sia, ha bisogno di capire quali sono le prospettive che l'azienda ha. E allora lì... Potenzialità anche di crescita e di sviluppo. Soprattutto su linee che hanno una scadenza nel tempo. Quindi come fanno a valutare se lo stesso imprenditore non è in grado di trasferire in maniera corretta le informazioni su un piano, su un progetto. Allora quello che noi ci accorgiamo è che purtroppo molte volte questa attività è difficoltosa. Insomma, da parte proprio di chi si rivolge alla banca, all'istituto per chiedere supporto. Sì. Però per quanto riguarda, ecco, rimaniamo un po' nel campo molto ampio delle opportunità di finanziamento, anche di misure pubbliche, bandi e quant'altro. Troviamo vari attori coinvolti, in un certo senso, dall'Europa in giù, no? Perché sono davvero tante le misure a disposizione. Ecco, come orientarsi un po' in questo grande mare magnum di opportunità e di strumenti? Allora, innanzitutto, ecco, distinguerei, partendo dall'iniziativa, quindi volendo fare un caso per esemplificare, per cercare di offrire un contenuto pratico, no? Certo. Partendo da una nuova iniziativa, dovrei distinguere qual è il fabbisogno, cioè quali sono le risorse necessarie per poter avviare un'iniziativa in termini proprio di copertura degli investimenti da effettuare e poi quali sono, quindi, le fonti di finanziamento più adatte per coprire questo tipo di necessità, che è un'azienda a quel punto, individuando le fonti, diciamo, agevolate nazionali, magari anche assieme ad una o più istituti di credito, sicuramente l'impresa e quindi l'imprenditore ha una possibilità oggi di gran lunga maggiore rispetto al passato. Ci sono anche i canali innovativi, noi abbiamo, registriamo frequentemente una crescita ormai abbastanza importante di offerta di finanziamento attraverso la rete, no? Quindi le aziende, sia le start-up che le aziende già avviate, possono presentare i loro progetti su piattaforme che si sono organizzate per poter analizzare la situazione aziendale e anche i progetti prospettici proprio al fine di concedere del credito. Noi abbiamo parlato anche in altre puntate, in questa trasmissione anche di fintech, no? Come nuova frontiera, tra virgolette, no? Delle possibilità di finanziamento. Certo. Da un punto di vista delle aziende, quanto è, come dire, già praticata questa formula? Oppure ci sono un po' delle resistenze ancora da parte, forse anche per questioni culturali, di abitudini, eccetera? Beh, lo scambio informativo non è banale, comunque non essendoci un contatto diretto, la partita si gioca su un ambito formale, documentale e questo purtroppo, come dicevamo poco fa, rappresenta un gap che non tutte le aziende hanno colmato. Certo. Dall'altra parte viene richiesta magari una documentazione, diciamo, compiuta che consenta a chi deve valutare la proposta di avere un quadro chiaro. Assolutamente. E quindi, sì, magari lo strumento è uno strumento anche abbastanza agevole, però va saputo utilizzare... Ha dei paletti, insomma, che devono essere rispettati e... Quindi non è così, diciamo... Di immediata praticità, in un certo senso. Però, ecco, lì, veramente dal settore immobiliare o la piccola realtà, ma anche, diciamo, realtà più strutturate, oggi possono contare su fonti di finanziamento veramente ampie. Molto variegate. Sì, quindi magari non tutto il fabbisogno coprirlo con quel canale, ma magari quello può essere un canale o per esigenze temporanee oppure per sopravvenute necessità, allora a quel punto si può ricorrere a strumenti di questo tipo. Però, ecco, ripeto, la premessa è che io abbia un'idea chiara e che sia riuscito comunque a trasferirla su un piano presentabile. Certo, certo. E che questa è il vero... La difficoltà principale. La vera difficoltà è questa, sì. Assolutamente. Siamo in un periodo, ne parliamo già un po' in apertura, anche di cambiamenti, no? Di trasformazioni per il mondo economico, per le singole attività e imprese. Si parla tanto anche degli obiettivi fissati col PNRR, che è un po' sulla bocca di tutti. Si parla di innovazione digitale, transizione energetica o ecologica. Insomma, dal vostro osservatorio come valutate questo momento? Più di difficoltà per il mondo delle imprese o più, come dire, un momento di opportunità da cogliere? Noi, diciamo, per noi questo è un momento di grandi opportunità, perché credo che sia per le imprese, ma in generale per il Paese, alla sventura e quindi alla sciacura che in qualche modo ci è toccato vivere a tutti negli ultimi anni, comunque è stata data una risposta a livello europeo e quindi poi a livello europeo. Il Paese nazionale, con un ventaglio di proposte che sulla carta rappresentano ad oggi un'ottima opportunità. È chiaro che vanno sapute utilizzare. L'Italia in questo non eccelleva prima, perché penso che tutti sappiamo... Facciamo le statistiche, insomma, spesso anche, purtroppo anche delle nostre, la nostra regione in primis, anche altre regioni insomma del centro-sud che spesso sono agli ultimi posti anche per capacità di intercettare le opportunità di finanziamento che arrivano dall'Europa. Come si fa a migliorare questo trend? La nostra regione, io non mi avventuro in riflessioni politiche perché non sono il caso... Sono dati di fatto in un certo senso. Però non è una regione fra le regioni più attive che in qualche modo promuovono o hanno promosso in maniera anche innovativa strumenti e soluzioni che invece altre regioni, magari certo facilitate da un discorso di mezzogiorno, però non necessariamente le regioni del mezzogiorno potevano andare incontro alla nascita o allo sviluppo di queste iniziative. Quindi devo dire che qui forse l'Abruzzo sicuramente avrà incontrato delle difficoltà nella macchina amministrativa, burocratica. Ecco, noi purtroppo possiamo solo registrare gli effetti, le motivazioni ci saranno, ma a noi adesso sfuggono. Dobbiamo cercare comunque di migliorare. Però devo dire che se non fossero le misure nazionali e se non ci fosse il settore del creditizio tradizionale o adesso il nuovo canale, ecco, questi vari ambiti e queste varie strade comunque ad oggi mettono in condizione le aziende di avere delle alternative. Io spero da Abruzzese che la nostra regione in qualche modo sappia cogliere a pieno queste opportunità. E anche la capacità poi di concretizzarle e trasferirle direttamente, no? Le esigenze dei territori e delle aziende del territorio. Eh, perché altrimenti poi... Restano su carta queste opportunità. No, no, torna lì indietro e finirà la storia. Assolutamente sì, purtroppo sì. Ci sarebbe tanto da dire, insomma, perché poi ce ne sono davvero tante anche di, come dire, aree, no? Di intervento, soprattutto su questi temi che ho citato prima, la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, la transizione. Ma anche l'agricoltura. Il territorio è un momento, tra l'altro, di grande difficoltà dovuta anche ai cambiamenti climatici. Ci sono però, esatto, dei progetti... Ci sono delle iniziative giovanili molto interessanti. Devo dire che... Anche lì può abbinare un settore che può essere visto in un settore tradizionale, invece c'è molto spazio anche per l'innovazione, no? C'è l'innovazione, infatti si parla spesso di agritech. Ormai tech lo troviamo... Dappertutto. O un... Vabbè, d'altronde la nostra vita è tecnologica oggi. Quindi, a qualsiasi termine possiamo aggiungere tech. E quindi anche l'agricoltura. E quindi anche l'agricoltura. Si possono aprire spazi interessanti anche lì per investimenti, per idee innovative. Sì, c'è un connubio tra la gestione tradizionale del mondo collegato all'agricoltura e l'innovazione apportata dalle tecnologie, che quindi sono finalizzate a sfruttare in maniera magari consapevole, da un punto di vista del rispetto ecologico della natura. Però, ecco, ci sono strumenti che i giovani potrebbero utilizzare e quindi trasformare beni che magari hanno oppure che potrebbero avere... Perché spesso si parla anche, insomma, del ricambio generazionale nella gestione, nella guida delle aziende. Forse questo è proprio un settore dove... Questo è un altro tema che a noi è molto caro. ...si può intervenire, no? Sì, è molto caro perché devo dire che una delle criticità è proprio questa. E noi l'abbiamo già... Un nuovo punto di vista, insomma, sviluppare un nuovo punto di vista che forse nelle mentalità più giovani può essere più facilmente applicato poi alla guida delle aziende. Sì, beh, sicuramente uno dei motivi per cui i giovani, diciamo, che sono andati a studiare fuori difficilmente tornano è perché non hanno poi una possibilità di implementare nel contesto, diciamo, familiare o locale, tecniche e conoscenze che hanno accolto fuori. Si apprendono altrove. E questo è un peccato perché poi il patrimonio, l'innovazione, lo porta il giovane. Se il giovane studia fuori e non torna, la struttura locale nel tempo non può far altro che impoverire. Si impoverisce da questo punto di vista, certamente. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione dello spazio e del tempo a nostra disposizione. Questa mezz'oretta è volata via, abbiamo toccato diversi aspetti, magari ci sarà occasione anche per approfondirli meglio successivamente. Intanto speriamo di avervi dato alcune indicazioni utili su questo vasto mondo, insomma, del fare impresa che sicuramente abbraccia tantissimi aspetti. Io ringrazio dunque Paolo Di Antonio per essere stato con noi. Grazie a voi per la prevenza. Grazie, grazie a lei, buon lavoro. Ci fermiamo qui per quanto riguarda questo appuntamento dei Conti in Tasca, ma torneremo anche la prossima settimana. Grazie e arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.